Bene, allora, solo poche parole introduttive, ma più che altro per il piacere di presentare un caro amico che conosco da tanti anni, col quale ho condiviso anche una fase iniziale della nostra formazione giovanile. Questo comincia a essere preoccupante, perché quando si comincia a dire così vuol dire che gli anni sono passati, spero non in vano. Andrea Zifferero è uno dei più grandi specialisti in alcuni ambiti della ricerca archeologica, oltre che etruscologo e si è dato nel corso degli anni una competenza notevole nel campo della museologia e nel campo della museologia intesa in senso molto ampio. Musei, parchi archeologici, forme di conoscenza valorizzazione e fruizione di sistemi integrati tra musei, parchi archeologici e ambientali. E da molti anni ha avviato un processo, un progetto di ricerca e non solo di ricerca, ma di ricerca applicata di grande interesse, di cui credo ci parlerà anche oggi, che apre dei filoni per noi interessanti, non solo dal profilo della formazione e della ricerca, ma anche rispetto a realtà, che sono poi quelle che danno vita a questo corso, cioè una società di spin-off, un'associazione, cioè filoni che escono, che consentono a noi di uscire dagli ambiti ristretti dell'università, della ricerca, della ricerca archeologica e anche dagli ambiti più ristretti e ormai quasi esauriti dei finanziamenti destinati a questi ambiti. Perché Andrea ha avuto l'intuizione di avviare dei progetti che riguardano il paesaggio archeologico, il paesaggio rurale, con alcune specificità, che sono il paesaggio della vite, il paesaggio dell'olivo, andando a valorizzare la stratificazione storica di questi paesaggi, che sono, come sappiamo, poi l'elemento distintivo del paesaggio attuale e che fa del paesaggio della Toscana o del Lazio o della Puglia qualcosa di unico. E questo ha attratto l'interesse ovviamente delle altre amministrazioni, dei produttori, delle aziende. Ed è quello che per esempio penso sarebbe opportuno, interessante, intelligente fare anche qui da noi. Voi sapete che in questi ultimi anni c'è stata una positiva inversione di rotta rispetto alle produzioni agroalimentari di qualità. Penso soprattutto al vino, anche all'olio, meno all'olio ancora, ma il vino in Puglia ha avuto un'evoluzione notevole, per cui il vino pugliese, che per tanti anni è stato considerato un prodotto di scarsa qualità, utilizzato sostanzialmente per tagliare altri vini, da molti anni invece ha guadagnato una sua specificità, una sua qualità. E molto viene fatto sul recupero di vitigni autoctoni. Ma quando parliamo di questo parliamo di cose con cronologie più recenti, ma non è così. Ci sono nell'organizzazione del paesaggio agrario e anche in alcune specifiche produzioni, ci sarebbe la possibilità di risalire archeologicamente molto indietro all'età medievale o all'età antica in alcuni casi. Ma tutto questo non è stato mai affrontato e questo potrebbe essere un filone molto importante non solo per chi produce oggi vino o olio o altri prodotti di qualità, ma per ripensare il territorio, ripensare il paesaggio e trasformare questo elemento anche in un elemento così come deve essere, un elemento innanzitutto culturale, prima ancora che economico. O meglio, per dare forza economica, dargli uno spessore culturale. Cosa che non è ancora ben chiara ai produttori, non lo è affatto agli amministratori e questo potrebbe essere un ruolo importante da svolgere e anche la possibilità di crearsi nuovi percorsi, del tutto imprevedibili. Pensiamo a tutto quello che è il turismo enogastronomico e il turismo legato agli agriturismo, alle fattorie didattiche, che spesso, al quale tipo di turismo, manca lo spessore culturale. Cioè non basta prendere una masseria, trasformarla in una specie di sala ricevimenti di matrimonio in campagna per fare agriturismo. Bisognebbe dare qualità fondata sulla conoscenza e non sulla creazione di miti, ma sulla conoscenza approfondita, storica e da punto di vista archeologico diciamo stratificata nel territorio, per dare più significato a queste stesse nuove possibilità anche occupazionali e di sviluppo. Quindi vedete come in questo modo essere archeologo, essere storico, essere pedagogista può dare funzioni, può assumere funzioni molto più importanti dal punto di vista sociale. E quindi io lo ringrazio, spero che, noi spesso ricorriamo ad Andrea quando abbiamo dei progetti, lo coinvolgiamo sempre quando si tratta di parlare di queste tematiche, ma ne parlavo poco fa anche con lui, mi piacerebbe anche per i rapporti consolidati che ci sono non solo personalmente ma proprio come Università di Siena e Università di Foggia che sono un po' legate, gemellate per certi aspetti. Ecco mi piacerebbe se anche su progetti di questo tipo si potesse contare sulla sua esperienza, sulla sua competenza e certamente ce ne potremmo avvantaggiare molto. Quindi ti ringrazio e buon lavoro, io ti seguirò un pochino, poi ad un certo punto avrò cose di altro tipo, come incontrare i commissari, sindacalisti e altro e insomma non mi potrò avvalire del piacere di ascoltarti. Funziona? Va bene? Allora buongiorno a tutti, io ringrazio Giulio Volpe la cui conoscenza risale esattamente a 31 anni fa, quindi possiamo dirci, possiamo dirci, ecco ho avuto questi minuti per calcolarla, possiamo dirci che ci conosciamo da molto tempo e che in ogni caso ringrazio per questo invito, ringrazio i suoi collaboratori per avermi considerato all'interno di questo corso. Io cercherò per quello che mi è possibile naturalmente di trascorre una giornata che vuoi in modo costruttivo presentandovi da una parte alcune metodologie, dall'altra alcuni dati in sintesi progetti sui quali naturalmente la mia attenzione è quella di una parte del Dipartimento di cui faccio parte dell'Università di Siena, cioè Scienze Storiche e dei Beni Culturali, ha consolidato la propria azione negli ultimi otto anni. Cominciamo subito a premettere che la mia formazione è quella di un archeologo tra virgolette tradizionale, nel senso che io sono etruscologo di formazione e sono stato reclutato dall'Università di Siena per insegnare in prima battuta etruscologia, però fin dagli inizi della mia attività che risale all'inizio degli anni 90 mi sono occupato di musei, in particolare di musei archeologici, in stretta connessione, musei civici per l'esattezza, in stretta connessione con il territorio evidentemente di competenza di questi musei civici. La mia esperienza a questo punto si è effettivamente fin dall'inizio dell'attività professionale consolidata, soprattutto nelle finalità di trovare forme di valorizzazione per i dati archeologici che non solo l'archeologo ma comunque l'esperto di beni culturali riesce sempre a raccogliere su di un territorio e poi a trasmetterli in modo più o meno codificato all'attenzione di un pubblico che all'inizio della mia attività, all'inizio degli anni 90, stava crescendo in modo numerico, in modo piuttosto consistente ma anche evidentemente qualitativo. La domanda di beni culturali che mi sono trovato evidentemente a fronteggiare con l'inizio di questa attività come direttore di musei civici, non vi ho detto dove, ai margini della provincia di Roma, nell'entroterra di Civitavecchia. È stata una buona palestra che aveva avviato fin da quando ero ragazzo, l'anno prossimo farò i miei 40 anni con l'archeologia, celebrerò, avevo cominciato all'interno di un'associazione che si occupava di beni culturali e in particolare di beni archeologici. È chiaro che il fatto di poter vivere su di un territorio ad alto contenuto di beni culturali, di poter sviluppare la propria attività e soprattutto di poter, trovandosi la responsabilità di dirigere dei musei civici, di poter impostare una politica culturale a stretto contatto con le amministrazioni locali, in qualche modo mi ha favorito dal punto di vista dell'inclinazione allo sviluppo di progetti e sono venuti così i primi programmi, a parte il riordino ovviamente in senso più comunicativo delle sale dei musei che dirigevo, che è stato poi il primo passo, con un approfondimento teorico che è venuto soprattutto dall'approfondimento delle bibliografie che provengono esclusivamente, quasi esclusivamente dal mondo anglosassone, sulla teoria della comunicazione del bene culturale al pubblico e su cui il nostro Paese purtroppo ha sempre rifiutato di accendere una discussione di tipo scientifico in modo tale da poter non solo assumere esperienze che in qualche modo provengono sempre da fuori, dall'estero, sempre dall'ambito europeo ma comunque sempre dall'estero e soprattutto poi di consolidarle e di riportarle alla discussione per favorirne una crescita, una maturazione, uno sviluppo, trattando questa disciplina della comunicazione del bene archeologico esattamente come le altre discipline scientifiche. Vi dicevo i primi prodotti sono stati, a parte la riorganizzazione dei musei civici, la creazione del progetto e la messa in atto del progetto archeodromo dell'Etruria meridionale che prendeva il nome dall'archeodrome di Bonn, un esperimento molto interessante costruito dagli archeologi francesi lungo l'autostrada a Parigi di Gione e purtroppo recentemente chiuso per problemi di bilancio e poi soprattutto mi ha consentito di iniziare una politica di analisi del patrimonio minerario della zona dei Monti della Tolfa in cui mi trovavo come direttore appunto dei musei civici di Tolfa e di Allumiere e soprattutto di cominciare a pensare a forme di valorizzazione dell'archeologia mineraria. Il patrimonio minerario della zona è un patrimonio di enorme interesse dal punto di vista sia storico che archeologico perché l'estrazione dei metalli in primo luogo, dei minerali assolforimisti e poi anche di un sale di un minerale di alluminio che è l'allunite da cui si estraeva un composto l'allume che era fondamentale nell'antichità per fissare i colori sui tessuti, ha generato un'attività mineraria che inizia praticamente nell'età del bronzo e che è cessata negli anni 70 del 900 nella zona. Questi aspetti dell'archeologia mineraria e della valorizzazione della creazione di itinerari minerari per il grande pubblico valorizzando semplicemente tutto quello che c'era a disposizione e approfondendo lo spessore dei contenuti di questi itinerari archeo minerari con il lavoro in archivio nell'archivio storico di Roma e nell'archivio centrale dello Stato, cioè nell'archivio preunitario e in quello postunitario dove è conservata gran parte della storia dell'estrazione del minerale di allunite da parte della Remerenda Camera Apostolica, mi ha messo in condizione di capire quanto fosse alto, elevato il potenziale strutturale della zona e quanto fosse ancora da coltivare dal punto di vista dello sviluppo e della trasmissione di queste informazioni a largo pubblico. Dopodiché, scusate, vi annoio un po' con il mio curriculum, nel senso che però ritengo sia utile perché poi riusciate forse a capire certe mie scelte, anche critiche che vi presenterò durante la giornata. Vi dicevo, proprio sulla base di questa esperienza maturata, sono stato chiamato poi come consulente all'Università di Siena alla metà degli anni 90 per mettere in atto il progetto dei parchi, del sistema dei parchi culturali della Val di Cornia, in cui il professor Riccardo Francovic evidentemente aveva dato un'inforte impronta dal punto di vista dell'indagine del sistema minerario medievale dei Monti di Campiglia al centro di un progetto che vedremo oggi del parco archeo minerario di San Silvestro nel comune di Campiglia Marittima. E poi, da lì, da una prima consulenza, una volta aperto il parco nel 1996, ho assunto la direzione del parco archeo minerario, l'ho tenuta per due anni, dopodiché la società di gestione, che è quella di cui parleremo oggi, che è la società dei parchi della Val di Cornia, mi ha destinato alla creazione e alla gestione del parco archeologico di Baratti e Populonia. Quindi ritornavo alla mia, dopo due anni di archeologia mineraria nel Medioevo, ma c'era anche la fase etrusca in queste miniere, ritornavo alla mia vocazione originaria, che era quella di lavorare all'interno e a contatto con la cultura etrusca a Populonia, Populonia nel golfo di Baratti. Dopodiché, per una serie di ragioni, ho terminato il rapporto con la società dei parchi della Val di Cornia e sono diventato professore a contratto di museologia e museografia all'Università di Siena. Ovviamente non insegnavo in questa esperienza soltanto come organizzare e strutturare un'esposizione museale, ma mi ponevo il problema di aprire il museo, e quindi analizzandone tutte le potenzialità di comunicazione dei contenuti a largo pubblico, ma mi ponevo soprattutto il problema di da una parte formare persone, persone che inizialmente lavoravano per conseguire il diploma che poi si è trasformato nella laurea triennale con la riforma dell'università. Questo è avvenuto nel 1998, il mio primo anno di docenza è stato nel 1998 e mi ponevo quindi per la prima volta nella mia vita il problema, io che sono sempre stato un archeologo sul campo, il problema della formazione e soprattutto del futuro occupazionale di persone che in qualche modo si affidavano in piccola parte al mio insegnamento per la loro preparazione culturale e soprattutto per l'aspetto del loro poi inserimento successivo nel mondo del lavoro. Nel corso degli anni ho ottenuto per circa 11 anni questo corso di museologia e museografia, nel frattempo sono diventato di ruolo, sempre però come ricercatore nel settore scientifico di etruscologia e antichità italiche, per cui il mio insegnamento di museologia e museografia era comunque accessorio rispetto a quello di etruscologia e antichità italiche all'interno dell'università, ho sentito crescere dentro di me questa importanza del lavoro sviluppato con i laureandi proprio per, se volete, riuscire ad imitare il più possibile una forma di insegnamento che è corrente nelle università europee, in particolare, ed è iniziato in particolare nelle università anglosassone, che è quello della cosiddetta public archaeology, cioè dell'uso dei significati contenuti del lavoro fatto dall'archeologo all'esterno. Ecco, questa forma di transazione per me significava in parte convincere i miei studenti che l'insegnamento di museologia e museografia poteva diventare una carta importante per acquisire prima di tutto una mentalità più aperta nel settore archeologico, sapete che il settore degli studi archeologici è molto settoriale e specialista su certi aspetti. Le archeologie sono tante, l'aspetto che più interessa spesso viene approfondito e poi viene mantenuto nel corso della propria attività, della propria carriera. Ecco, io invece facevo una considerazione opposta, che già sentendomi in qualche modo una parte di un mondo complesso come quello del piano museologico e del piano museografico conseguente, adesso vi spiegherò cosa intendo per piano museologico e piano museografico, mi è venuto immediatamente di collaborare con... chiaro che questa partenza con l'insegnamento di museologia e museografia mi ha dato la possibilità di trasmettere qualche cosina dal punto di vista della trasformazione di questo insegnamento nel mitico insegnamento di public archeologi al quale io ovviamente tentavo di arrivare, ma soprattutto mi ha dato la possibilità di lavorare insieme ai miei studenti prima e poi i miei laureati e poi ai dottorandi e poi alle persone che grazie a questi insegnamenti sono riusciti poi ad affermarsi nel mondo professionale, per esempio nelle strutture della pubblica amministrazione. Ecco, mi ha dato l'opportunità di conoscere sempre di più la realtà italiana e di approfondirla. Ovviamente consentendomi di emettere un giudizio critico sulla situazione che studiavo e sulle possibilità che le situazioni che osservavo mi davano di migliorare queste condizioni. L'approccio che oggi esamineremo è un approccio abbastanza complesso ma che come vedete, come vedrete, scusate, si articola su alcune specifiche linee di sviluppo. Che sono? Se vogliamo lavorare partendo da una prospettiva archeologica, semplicemente archeologica, ma attenzione non è l'unica prospettiva che tratteremo oggi, assolutamente. Io come archeologo parto da questo assetto, da questa metodologia, ma come vedrete gli aspetti che toccheremo, avviati da questo strumento che è l'archeologia, sono in realtà oggi talmente interconnessi all'archeologia e talmente strettamente interrelati alla metodologia archeologica che come vedrete andremo in maniera assolutamente informale e non specialistica in altri settori, per esempio quello dell'antropologia, quello della pianificazione paesistica, quello della comunicazione dei prodotti del proprio lavoro e anche, perché no, quello dell'attività di supporto alle aziende che naturalmente vivono e operano nel territorio all'interno del quale l'archeologo muove la sua attività. Per punti, uno degli aspetti che forse è più noto agli archeologi che sono qui dentro è quello del problema della definizione del paesaggio archeologico. è vero che il paesaggio archeologico, inteso come una evoluzione dell'ambiente da parte delle comunità umane, il paesaggio è sempre qualche cosa che viene modificato dalle comunità umane nella sua forma attuale, ovviamente considerato in una prospettiva diacronica, quindi nel corso del tempo. Il paesaggio contemporaneo è la sommatoria di diversi paesaggi, la cui impostazione spesso è iniziata molto tempo fa ed è documentata attraverso gli strumenti dell'archeologia. In ogni caso, il paesaggio archeologico per me non è fatto di oggetti, il castello medievale, le rovine del castello medievale, la villa romana, la tomba etrusca, l'acquedotto romano, ma è fatto da un contesto che evidentemente accosta le infrastrutture al paesaggio nel quale le infrastrutture si sono sviluppate. Non mi interessa tanto capire come sono fatte gli ambienti della villa che sto scavando, che sto analizzando, mi importa capire qual è l'evoluzione che il paesaggio circostante, la villa ha subito dalla presenza dell'uomo attraverso le forme di coltivazione che l'uomo ha evidentemente proiettato intorno alla villa o intorno al castello e che sopravvivono in qualche caso ancora oggi. Allora mi interessa non più iniziare il mio lavoro archeologico camminando solo e guardando per terra, ma comincio a guardare se ci sono per esempio intorno alla villa o intorno al castello dei boschi, dei resti di coltivazioni che posso ancora identificare e che posso in qualche modo chiedermi se in qualche modo siano sopravvissute all'attività delle comunità antiche che le hanno prodotte, che le hanno impiantate. Contesti archeologici, contesti paesistici, contesti antropologici. Se noi vediamo questi dati dal punto di vista della trasmissione dei modi di lavoro e delle tecnologie noi possiamo riconoscere evidentemente processi di trasformazione delle materie prime agricole nel corso dei secoli, esattamente partendo dalla identificazione dei modi di produzione contemporanei e dell'uso di determinate cultivar, le chiamo con un termine tecnico, cioè specie vegetali che sono state coltivate nell'antichità e che tuttora vengono coltivate. La coltivazione prelude, presume evidentemente ad un sistema di lavorazione tradizionale in qualche caso che può essere mantenuto ancora oggi. È chiaro che noi vedremo come un lavoro di analisi è assolutamente essenziale nella definizione, nella ricerca di questi contesti archeologici e nella definizione di questi paesaggi. perché è un lavoro di analisi? Perché non posso emettere un giudizio di tipo scientifico se non ho esaminato prima gli aspetti correlati a tutti i dati che posso estrarre da quello spazio geografico all'interno del quale mi muovo. Perché? Perché altrimenti rischio di introdurmi in quella metodica che è la cosiddetta disneificazione del prodotto. Che cos'è la disneificazione? È la trascuratezza dell'analisi del dato scientifico nella costruzione di un sistema di valorizzazione. Io posso per esempio nella provincia di Foggia ricostruire, che ne so, un parco dell'antico Egitto, d'accordo? Chi me lo impedisce? In teoria nessuno. Può darsi anche che io abbia successo come impresa dal punto di vista di ricostruire le piramidi di Ghiza all'interno della provincia di Foggia. È chiaro che sto parlando di un processo però che è totalmente scollegato dalla vocazione storica della provincia di Foggia, dallo sviluppo produttivo e culturale della provincia di Foggia ed è un puro effetto di una cosiddetta disneificazione di un prodotto culturale che trova le sue espressioni altrove, d'accordo? Ecco, recentemente io ho espresso un giudizio abbastanza critico sul fatto che per esempio nella, sapete, Villa Borghese a Roma, un parco storico di notevole importanza che è inserita perfettamente nell'evoluzione della storia della città, è stato al centro della ricostruzione di un teatro in legno elisabettiano, voluta da Gigi Proietti che conoscete tutti e che ha una sua caratteristica sostanzialmente storica, molto precisa. Questi teatri elisabettiani provengono, la conoscenza perlomeno di questi teatri elisabettiani proviene da un'esperienza archeologica condotta nella City di Londra dalle units del Museo di Londra che hanno identificato alcuni dei teatri elisabettiani il Globe Theatre, il Rose Theatre, nei quartieri oltre il Tamigi, nei quartieri popolari, diciamo al di fuori della città, e che li hanno nel caso di uno dei teatri identificati ricostruiti e che oggi una fondazione fa funzionare per la, evidentemente, produzione del teatro elisabettiano all'interno di questo teatro ligneo che è straordinario e che io consiglio a chi appunto non ha visto di andare a South Work, uno dei quartieri oltre il Tamigi, per spendere un paio d'ore nella visita di questa struttura come tutte le strutture britanniche di questo tipo, ha un bellissimo centrovisita dove vi fanno vedere la storia del teatro, il teatro è completamente ricostruito a circa 400 metri di distanza dal luogo originale dell'identificazione del teatro, dove c'è un museo naturalmente interattivo e dove si può vedere in qualche modo non tanto i risultati dello scavo perché sono stati coperti da una piazza, ma certamente la ricostruzione appunto delle strutture di questo teatro. Tanto per dirvi, in questo teatro è stato girato il film Shakespeare in Love, ecco, tanto per inquadrarvi il punto. Che cosa ha a che vedere storicamente un teatro del genere con la città di Roma? Assolutamente nulla. Ecco, adesso, io non voglio dire che bisognava ricostruire un teatro romano per permettere la rappresentazione di spettacoli estivi all'interno di Villa Borghese, però certamente forse si poteva approfondire un po' di più il fenomeno attraverso uno studio di approfondimento e sull'evoluzione del teatro in Italia e forse qualche altra soluzione meno appariscente, meno immediata si poteva trovare, ma tant'è e ci troviamo oggi. Il teatro, il Globe Theatre ricostruito appunto a Villa Borghese. Questo è il punto, dicevo, che andrebbe evitato. Come evitare la disneificazione del prodotto che si produce? Evidentemente approfondendo attraverso le discipline che pratichiamo. Nella seconda parte della giornata vi parlerò di questi progetti correlati al vino. No, noi stiamo studiando alcuni aspetti di sviluppo e di approfondimento di alcuni vitigni che riteniamo essere di origine molto antica perché li abbiamo identificati nel paesaggio archeologico circostante alcuni siti archeologici dell'area etrusca. Noi evidentemente avevamo, vi dico, li abbiamo identificati perché eravamo come staff riusciti a sollevare gli occhi da terra e ci eravamo guardati nei boschi intorno a questi siti etruschi. L'occhio a terra è classico dell'attività dell'archeologo, per chi di voi è archeologo. Non si riesce a staccare spesso l'occhio dal terreno, sia durante la fase di approfondimento iniziale, cioè di ricerca di superficie, sia durante la fase successiva di scavo. Bisogna sempre stare piantati a terra. Ecco, a un certo punto io mi sono stufato di stare piantato a terra e abbiamo cominciato a guardarci intorno. Abbiamo trovato delle viti strane intorno a questi siti archeologici, delle viti che, grazie al contributo dei botanici prima e dei biologi molecolari dopo, siamo riusciti a capire come potessero essere state in qualche modo coltivate nell'antichità. Perché? Perché il loro germoplasma era distinto, diverso da quello delle altre viti selvatiche. Ecco, sulla base di questo abbiamo lavorato all'identificazione evidentemente dei contatti tra queste viti selvatiche e i vitigni attuali e abbiamo scelto di approfondire in uno di questi progetti che vi proporrò oggi pomeriggio l'aspetto del contatto tra queste viti e la possibilità, quindi tra queste viti considerate come reliquie nel paesaggio archeologico e la possibilità che queste viti possano in qualche modo portare alla vinificazione un vino effettivamente simile, non uguale per carità, a quello prodotto in epoca etrusca o romana. D'accordo? Quindi, come vedete, non c'è disneificazione nei cosiddetti risultati del progetto Vinum. Io non mi sono messo a inventare un vino antico semplicemente proponendo un'etichetta con la figura, che ne so, di un satiro etrusco o di una delle figure provenienti dalle tombe di Tarquinia. Abbiamo fatto anche una ricerca sulla iconografia etrusca delle etichette, delle produzioni, soprattutto dell'area tosco-laziale, toscana e laziale, quindi quella che insiste praticamente sull'antica area etrusca. Ma ci siamo posti il problema di ricostruire il più possibile un prodotto che potesse non essere uguale, perché non è mai uguale, ma potesse in qualche modo avere delle caratteristiche simili, anche dal punto di vista organolettico, a quelle antiche. Ovviamente basandoci sulle esperienze in corso. Il lavoro di analisi è il lavoro di base del progetto di valorizzazione. Come ho detto altre volte anche qui a Foggia, il lavoro di analisi non può prescindere dall'investimento di risorse, ma è solo nel lavoro successivo all'analisi, cioè quello della valorizzazione dei dati prodotti dall'analisi, che possiamo permetterci un lavoro di sintesi. Per quale motivo? Perché non possiamo valorizzare tutto, perché il territorio all'interno lo spazio geografico, scusate, uso questo termine spazio geografico per definire un aspetto non collegato alla storia, cioè un aspetto di uno spazio nel quale noi dobbiamo stabilire dei confini e questi confini identificano il cosiddetto territorio. Il territorio di una città risiede, è definito, è delimitato dai confini storici della città che ha acquisito nel tempo. Quindi lo spazio geografico è lo spazio generale all'interno del quale ci troviamo. Un territorio è un territorio storico. Se nel territorio storico io devo portare a valore, valorizzare, quindi avviare un processo di conoscenza dei risultati della ricerca, io non posso fare altro che operare una sintesi. Perché? Perché non potrò costruire quattro musei antropologici della storia del lavoro agrario, per esempio, ma dovrò in qualche modo riassumere in un polo museografico specifico evidentemente tutti gli oggetti che ho raccolto in quell'area. Perché? Perché il segreto all'interno del quale ci dobbiamo muovere è una sorta di progettazione integrata dei temi che vogliamo sviluppare e la progettazione integrata richiede evidentemente un lavoro di sintesi. Se scavo dieci ville tardoantiche, se scavo tre castelli medievali, è difficile che io possa costruire un percorso analitico di valorizzazione, sia voi per le limitate risorse di cui posso disporre, voi per il problema anche di trasferire nello spazio le persone, io non posso evidentemente procedere alla valorizzazione di tutto quello che ho documentato attraverso la ricerca. Per cui mi accontenterò di un sito che rappresenti una specifica categoria all'interno dei siti dei quali ci muoviamo e mi accontenterò evidentemente di costruire un sistema museale che possa in qualche modo prevedere il più possibile un'integrazione tra le tematiche che poi rappresentano le componenti di questi sistemi. Vedremo anche in sintesi gli strumenti relativi all'analisi dei sistemi. Lo stato di conservazione del paesaggio e la biodiversità. Che cosa vuol dire biodiversità oggi? Dal mio punto di vista e forse anche dal punto di vista di molti di voi potrà voler dire poco. Oggi biodiversità è la testimonianza sempre più difficile della lotta delle specie, animali o vegetali per la sopravvivenza. Perché? Perché evidentemente il paesaggio umano in qualche modo così espanso, così invadente nei confronti dell'ambiente e della natura ha in qualche modo ristretto gli spazi della biodiversità. Se vogliamo considerare la possibilità che biodiversità significhi in qualche modo anche lavorare su specifiche specie, le cosiddette cultivar che noi utilizziamo oggi per produrre i beni primari per la nostra sopravvivenza, mettiamo i cereali, mettiamo l'olivicoltura, mettiamo la viticoltura, noi ci accorgiamo che nello stesso settore delle specie vegetali che noi oggi selezioniamo, ecco, sì, c'è una notevole perdita di complessità della biodiversità. E per farlo basta andare in un qualsiasi supermercato, voglio dire, se andate al banco della frutta, voi vedete che nel settore, per esempio, delle mele o delle pere, voi trovate ormai non più di 10 cultivar, l'80% delle quali provengono dalla Val di Nonna, quindi sono molto concentrate territorialmente, e rispetto alla incredibile varietà delle cultivar, stiamo parlando di mele e pere italiane, che ormai costituiscono un patrimonio veramente a rischio dal punto di vista della selezione e quindi della protezione della biodiversità. Perché? Perché il mercato è un mercato sempre più globalizzato e purtroppo quello che noi vediamo fare da noi stessi quando andiamo, non so, sul banco del pesce, a scegliere il pesce che riteniamo insomma adatto alle nostre tavole. Noi ormai conosciamo non più di tre o quattro specie rispetto alle decine di specie che popolano nel Mediterraneo. Scusate, vi sto parlando della Toscana, naturalmente dove vivo, d'accordo? E quindi vivendo all'interno della Toscana non ho dei banchi pesce così ampi come quelli che ho visto qui in Puglia, che tra l'altro conosco non benissimo, ma qui ho fatto il mio servizio militare diverse decine di anni fa. Per cui insomma ho visto le potenzialità e la civiltà del pesce in questa regione. Il problema è che l'uomo quindi, le comunità odierne, operano una forte selezione delle specie. E questa selezione delle specie diventa una delle guidelines del mercato attuale. È chiaro che perché è importante la biodiversità? Perché è la garanzia della conservazione di un paesaggio che, attenzione, è lì, scusate, di un ambiente più che di un paesaggio, che, attenzione, è lì e va tutelato perché va conservato, perché può darsi che tra vent'anni una delle specie, delle mele o delle pere che stiamo perdendo, possa in qualche modo essere utile, non solo per l'alimentazione, ma anche, non so, per ritrovati nel settore della medicina, per la cosmesi, per altre opportunità. è chiaro che la ricerca nel mantenimento della biodiversità, a noi archeologi, a noi poveri archeologi, sottolineo, che viviamo la crisi in maniera molto forte, la crisi che in questi anni si sta ripercuotendo a livello italiano-europeo sulla scarsità delle risorse evidentemente da destinare in primis alla ricerca, ma soprattutto alla valorizzazione, ecco, per noi, poveri archeologi che abbiamo iniziato questi progetti, il tema della biodiversità ha costituito invece un importante, significativo appiglio per poter costruire nuove forme di progettazione in cui il settore degli studi umanistici avrebbe in qualche modo potuto contribuire non solo alla tutela della biodiversità, ma in primis alla conoscenza della biodiversità, partendo da che cosa? Dalla antichità della esistenza di queste specie e dal contatto che queste specie vegetali, noi stiamo parlando evidentemente di specie vegetali, hanno avuto con le comunità del passato. Ecco, il naturalista contemporaneo vi può dire tutto di una specie, ma non vi può dire niente della storia di quella specie. Che cosa vuol dire questo? Sì, vi può dire che per esempio uno dei bovini che conosco meglio, la mucca o vacca maremmana, che si trova tra la maremma toscana e la maremma laziale, ecco, dicono tutti che è un bovino di origine molto antica, risale al periodo etrusco. Benissimo. È però un luogo comune questo qui, perché? Perché in realtà il naturalista ha interesse specifico nell'allevamento di questo bovino, ha interesse specifico nella diffusione di questo bovino, ha interesse specifico nel capire le abitudini alimentari e l'uso evidentemente alimentare che può sorgere, che si può sviluppare dalla pratica di allevamento di questo bovino. Però poi si ferma lì sostanzialmente. Ecco, il lavoro invece dell'archeologo, il lavoro dello storico, il lavoro dello zoo archeologo è essenziale per capire invece la storia di questo bovino, il rapporto alle comunità umane che l'hanno utilizzato. In ultimo, in conclusione, parleremo soprattutto oggi della vite e dell'olivo. Vi presenterò questi, scusate, questi quattro progetti, che sono i progetti Vinum, da cui abbiamo cominciato, il progetto Archiovino, che abbiamo in corso, il progetto Senaro Unvinia, ve ne parlerò molto più in breve perché non sono io il direttore di questo progetto, ma è un collega, per cui mi servirò di qualche elemento del lavoro che ha sviluppato il collega Andrea Ciacci. E poi vi presenterò i risultati anche di un progetto dedicato all'olivo e alle origini dell'olivicoltura in toscana che è stato denominato progetto Eleiva dal termine che nella lingua etrusca identifica appunto l'olio Eleiva. Scusate, faccio una pausa per eventualmente suggerire, fermarmi un attimo per capire se ci sono delle domande, se ci sono delle cose che ho spiegato male, se ci sono degli approfondimenti che desiderate. Tutto chiaro? Partiamo dagli strumenti. Io vi ho parlato fino adesso di progetti, progetti che nascono evidentemente tutti corredati da un aspetto analitico e sono progetti che nascono dalla consapevolezza che solo raccogliendo dati si può conoscere la realtà e la si può evidentemente gestire e per modificarla. La finalità dei progetti Vinum, Senarum Vinea, Archeo Vino e Eleiva è di arrivare alla definizione di forme di valorizzazione. Le forme di valorizzazione sono i parchi. Questi parchi richiedono evidentemente la capacità di progettare in modo sistematico una valorizzazione che altrimenti, vi dicevo, non è possibile mettere in atto se non nelle forme che conosciamo e che abbiamo praticato, abbiamo disponibili dal punto di vista della legislazione attuale. Esistono poi delle forme alternative di valorizzazione che vi presenterò nel corso della lezione di oggi e che stiamo appunto studiando in questo senso. Due temi in più, musei e parchi. Allora, se per quanto riguarda l'aspetto dei musei vi ho parlato dell'esperienza dell'insegnamento senese, vi devo anche dire che nel corso degli anni ho messo a punto sia l'esperienza che mi consente di motivare queste affermazioni, sia evidentemente anche la capacità di progettare alcuni aspetti museologici e museografici che poi sono riuscito a mettere a punto. Vi dicevo prima, piano museologico, ho usato due termini, piano museologico, piano museografico. Cos'è il piano museologico? Il piano museologico è lo sviluppo del contenuto di ciascun museo, museo di storia dell'arte, museo archeologico, museo antropologico, espresso da un decisore che evidentemente non può essere altro che lo specialista della materia di cui tratta il museo. Il museo archeologico ha il suo decisore nell'archeologo. Adesso vi spiegherò cos'è il decisore. Il museo di storia dell'arte, la Pinacoteca, ha il suo decisore nello storico dell'arte. Il museo antropologico è evidentemente nell'etnografo o antropologo. Il decisore è la persona che stabilisce l'impianto comunicativo rappresentato dal sistema informativo del museo e dal suo conseguente percorso espositivo. Voi sapete che un museo è fatto da un sistema informativo che è costituito dall'insieme di informazioni che si trovano all'interno di un museo e che sono distribuite in modo equilibrato al pubblico, dei visitatori. Il percorso espositivo è la scelta che noi facciamo di usare lo spazio disponibile. Se ho 10 sale, userò 10 sale. Se ho 3 sale, userò 3 sale. Evidentemente ai fini dell'esposizione che mi prefiggo di mettere a punto. Ma ciò che caratterizza in senso reale il piano museologico è il modo di proporre al pubblico, dei visitatori, i reperti. Mi spiego meglio e perdonatemi ma io ricorro continuamente, chiedo scusa a chi non è archeologo, ricorro continuamente a esempi dal settore archeologico perché è la mia materia e quindi cercherò di essere più chiaro possibile. Qual è il piano museologico attraverso il quale il decisore può intervenire sul piano museografico? Adesso vi spiegherò il piano museografico anche successivamente. Evidentemente è quello di selezionare il modo e quindi il metodo per presentare gli oggetti. Se per esempio devo esporre una tomba etrusca, niente mi vieta di esporla predisponendo gli oggetti e quindi distribuendo gli oggetti all'interno per esempio di una vetrina a forma di parallelepipedo che posso disporre al centro della sala oppure attaccata ad una parete della sala. Chi me lo impedisce? Nessuno. Spesso anzi avviene così perché le vetrine di forma parallelepipeda sono le dotazioni dei nostri musei. Va bene? Se però voglio cercare di mantenere l'insieme delle relazioni che quegli oggetti hanno espresso per chi le ha deposte, cioè i familiari della persona defunta nella tomba etrusca hanno predisposto quegli oggetti di corredo che oggi io come archeologo devo esporre al pubblico con una serie di significati e mantenendo una serie di legami che nel caso migliore esprimono, nel caso migliore conosciuto naturalmente laddove sono stati studiati questi fenomeni, esprimono il cosiddetto rituale funerario della cultura etrusca. Che cosa vuol dire? Che ciascuna civiltà antica del nostro paese ha un suo rituale funerario che connotava evidentemente queste forme di sepoltura. Ora, non so, nella cultura etrusca c'è, ma è tipico anche di molte altre culture dell'Italia antica, il costume di deporre i vasi da banchetto e da simposio, cioè c'è una stretta correlazione tra il rituale funerario e il consumo di vino o di alimenti, d'accordo? E' un dato comune per chi di voi frequenta i musei archeologici, comune a molte culture del nostro paese, dell'Italia antica. Il problema è che il museologo, lo specialista, il decisore, che vi dicevo non può essere altro che l'archeologo, deve sapere interpretare in senso comunicativo questi dati e come riesce a interpretarli? Attraverso l'esposizione che fa degli oggetti al pubblico. Capite che certi significati che per l'archeologo, per lo storico dell'arte, per l'antropologo possono essere dati per scontati, non lo sono per il farmacista, per l'operaio, per il medico, per l'interprete che visita una mostra o un museo archeologico, che naturalmente è specializzato su altri aspetti culturali o semplicemente si occupa tecnicamente di altre cose. Allora, come possiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Evidentemente da parte del decisore va valutata la possibilità di presentare in modo diverso e più, non dico accattivante, ma più complesso, gli oggetti che abbiamo ricavato da questa operazione archeologica, cioè il corredo di una tomba. E come? Per esempio, potendo ricostruire la disposizione nello spazio, esattamente come li abbiamo rinvenuti, all'interno della sepoltura questi oggetti. E come si fa? Si costruisce, si progetta una vetrina che abbia la forma della sepoltura. Ecco, in modo tale da predisporre, almeno nella posizione in cui li abbiamo ritrovati, se non è possibile ricostruire la posizione originaria, quegli oggetti. D'accordo? Chi ce lo impedisce? Nessuno. Se posso dire una cosa, ce lo impediscono spesso i fondi che abbiamo a disposizione. Ovviamente il budget, perché? Perché ordinare 20 vetrine tutte uguali, per chi di voi dirige musei o lavora all'interno dei musei, sa benissimo che costa meno che predisporre il progetto per 10 vetrine o 20 vetrine differenti l'una dall'altra, perché poi alla fine diventano una produzione artigianale. D'accordo? Certamente però il risultato che otteniamo è un risultato che qualifica il processo museologico del decisore per arrivare a quella esposizione. Ci siete? Condividete questa visione? Nessun, chiedo scusa se ci sono degli architetti o degli ingegneri nella sala, nessun architetto o ingegnere potrà privare un museo del piano museologico che sarà invece campo d'azione, primo campo d'azione del decisore umanistico. Ok? Dove avviene il contributo fondamentale che dà l'architetto o l'ingegnere? Evidentemente sotto il livello museografico. Cos'è il piano museografico? È l'analisi e lo sviluppo di tutti quei sistemi di impianti interni al museo che favoriscono l'esposizione degli oggetti. Una buona vetrina nasce da una stretta integrazione tra il progetto del museologo e il piano di lavoro del museografo, cioè del tecnico. Non prendete tecnico come una battuta squalificante, non lo è assolutamente. È solo un modo per differenziare evidentemente il lavoro e per dare significato al lavoro dell'umanista. Va bene? Il piano quindi museologico è un piano assolutamente importante in qualsiasi forma noi possiamo decidere di valorizzare il nostro lavoro sia sotto forma di museo sia sotto forma di parco. Per un'estensione il rapporto piano museologico, piano museografico è assolutamente coerente, assolutamente necessario anche sul piano della progettazione open air, cioè l'aria aperta nei parchi. Siamo esattamente sullo stesso piano che noi abbiamo al chiuso all'interno delle sale di un museo. Perché il piano museologico è sempre quello che caratterizza e contraddistingue il lavoro del produttore di sapere di natura umanistica. D'accordo? E non può essere sostituito dal sapere tecnico. Per un motivo molto semplice, perché il sapere tecnico dello studioso che progetta gli impianti non può conoscere il significato culturale degli oggetti che espone. D'accordo? In una pinacoteca, se ho delle pale d'altare, niente mi vieta di ricostruire l'altare sul quale si trovavano le pale. D'accordo? Anzi, se lo faccio, aiuto la comprensione del contesto. Capite? Perché io utilizzo in maniera ormai ossessiva questo termine contesto. Il contesto del paesaggio, il contesto del ritrovamento, il contesto dell'azione. Perché riesco a dare, evidentemente, un senso agli oggetti, siano essi vetrine, siano essi oggetti. Se in modo semplicemente accennato la silhouette di un altare per esporre le pale di altare, riesco a dare un'idea non soltanto squisitamente estetica delle opere che sto esponendo al visitatore. Va bene? Questo è uno degli aspetti. Allora, vediamo come arrivare agli strumenti di analisi. Perché? Perché nella ricerca di questi strumenti di analisi ho cominciato evidentemente il mio lavoro di docente di museologia e museografia all'Università di Siena nel 1998 e da qui sono partito molto speranzoso. Ho detto, va bene, cominciamo a vedere se esiste una bibliografia sull'analisi degli allestimenti. non mi importava che fossero allestimenti d'autore, mi importava che fossero gli allestimenti sui quali ovviamente lavora l'80-90% di noi, cioè sugli allestimenti per esempio dei musei civici, che in qualche rarissimo caso sono d'autore, ma il più delle volte sono abbastanza anonimi tutto sommato come operazioni di allestimento. E quindi mi sono guardato in giro. Ebbene, nel settore della bibliografia specifica, museologica e museografica, esistevano manuali, ma molto generali. Ma niente che fosse, ad eccezione di qualche studio analitico, non so, ho trovato per esempio la bibliografia e l'analisi, l'approfondimento dei lavori di Carlo Scarpa nei musei che ha progettato, ma Carlo Scarpa è Carlo Scarpa, ecco. A me interessava, più che sapere il museo di Castelvecchio, capite, conoscere, non so, qualche cosa del museo civico di Allumiere dal punto di vista della storia, dell'approccio appunto museografico e dell'evoluzione degli allestimenti che ha avuto il museo civico di Allumiere nel Lazio, nel corso della sua storia, che va evidentemente dalla sua istituzione. Ebbene, non esisteva dal punto di vista della bibliografia quasi nulla e per noi specialisti partire dalla bibliografia vuol dire evidentemente approfondire il tema in maniera effettivamente definita e comunque appoggiata a idee che sono già state sviluppate e pubblicate. Due, vediamo se esiste qualche cosa correlata, per esempio, alle forme di valorizzazione del bene culturale di tipo umanistico. Esistono delle teorie sulla valorizzazione? Esistono dei percorsi che sono stati esplicitati? ho letto qualcosa ho cercato e ho trovato quasi sempre delle note in margine per esempio all'allestimento delle esposizioni o delle mostre cioè dove si spiega la ragione di certi allestimenti ma poi tutto finiva lì sostanzialmente. Ecco. Per cui, un altro dei problemi a cui mi sono trovato ad affrontare è quello di costruire le cosiddette banche dati banche dati che potessero in qualche modo avere un senso dal punto di vista del lavoro sia formativo che del lavoro anche progettuale che stavo intraprendendo. Come si crea una banca dati? Una banca dati si crea evidentemente osservando fenomeni osservando luoghi osservando prodotti. e l'osservazione di questi prodotti di questi fenomeni di questi luoghi deve essere accompagnata da strumenti strumenti che permettono evidentemente di registrare la realtà esattamente come ci viene proposta. È chiaro che da studenti prima del diploma poi del triennio ma anche da studenti del biennio della specializzazione post riforma non potevo pretendere da studenti che mi chiedevano la tesi in museologia e museografia non potevo pretendere evidentemente l'elaborazione di progetti di musei o di parchi sarebbe stato effettivamente chiedere troppo potevo però chiedere la registrazione della realtà attraverso strumenti che insieme ai miei giovani collaboratori abbiamo costruito e si tratta semplicemente di strumenti che sono schede sono schede che registrano una realtà molto complessa e molto composita per esempio dei musei italiani se voi andate nei settori della bibliografia specializzata esistono ormai sono diversi guide dei musei italiani dove esistono delle guide sintetiche che vi dicono contenuto degli oggetti e qualche cosa ma molto poco relativi all'esposizione di questi oggetti dei musei di solito non più di mezza pagina d'accordo? e naturalmente vi danno dati statistici su questi musei ecco io quello che non volevo erano esattamente i dati statistici perché volevo capire che cosa prima di tutto lo stato della situazione dei musei e dei parchi italiani ci sono? come sono strutturati? dove sono? che tipo di allestimenti hanno? e i parchi? ci sono? dove sono? come sono organizzati? come sono gestiti? che cosa espongono? che cosa proteggono? che cosa conservano? e soprattutto dove puntano? e per fare questo evidentemente con gli studenti abbiamo sviluppato dei programmi di ricerca che partivano esattamente dai loro dai lavori di tesi di laurea per le tesi triennali naturalmente il lavoro era più semplice per le tesi specialistiche diventava più complesso il quadro che si poteva tentare di approcciare considerando l'esistenza e l'organizzazione sempre più diffusa nelle regioni e nelle province del nostro paese dei sistemi di valorizzazione siano essi sistemi museali o sistemi di parchi era evidentemente quello di affidare a laureando barra laureanda una provincia dal punto di vista della suddivisione evidentemente della disponibilità delle regioni italiane preferibilmente la provincia di provenienza del candidato barra candidata e di affidarli loro dal punto di vista della registrazione dei dati relativi ai musei questo lavoro che ormai ha più di un decennio sostanzialmente di esperienza ci ha consentito di creare delle banche dati che in parte abbiamo pubblicato in parte stiamo pubblicando in parte ci servono per approfondire che cosa gli strumenti per un osservatorio attenzione la sto facendo complicata in realtà l'osservatorio molto spesso e soprattutto in questi tempi di crisi sia degli atenei che delle strutture che gli atenei studiano cioè in questo caso i musei e i parchi in realtà non è altro più che un archivio di informazioni che quando riesco riesco a far pubblicare ai miei giovani collaboratori quando non riesco perché per fortuna i giovani collaboratori poi crescono non sono più tanto giovani e magari trovano lavoro in qualche altro settore mi sforzo poi di rincorrerli per poter capite ecco per poter non mandare perduto il lavoro che hanno fatto e quindi facciamo ogni tanto alcuni dei dati che vi presento oggi sono stati già pubblicati altri li abbiamo in corso di pubblicazione altri forse non li pubblicheremo mai in ogni caso potrebbero costituire a tutti gli effetti un buon osservatorio sulla realtà dei musei e dei parchi in Italia allora vi presento nel dettaglio alcuni di questi strumenti per farvi vedere come lavoriamo e soprattutto le caratteristiche di questi strumenti allora un un lavoro che è stato fatto molto bene da Maria Rosaria Acquaviva e che è stato pubblicato negli studi Mazzei grazie appunto all'inserimento che lo stesso Giulio Volpi ha voluto di questo articolo all'interno degli studi per Marina Mazzei e quello per esempio sull'indagine fatta dall'Acquaviva sui musei della scusate squisitamente archeologici della Puglia i musei della regione Puglia erano talmente tanti che noi ci siamo limitati squisitamente ad osservare la banca dati che abbiamo ricavato e quindi a commentare in modo critico la banca dati che abbiamo ricavato dai musei civici archeologici che come vedete sono stati raccolti in questa figura che è una visione d'insieme scusate una vecchia questa è una vecchia immagine della regione Puglia non è inserita la provincia di Barletta Andriatrani se non sbaglio correggetemi se sbaglio in ogni caso la simbologia che voi vedete raccoglie i musei che espongono raccolte archeologiche i musei con ricostruzione di ambienti archeologici adesso vi spiegherò di che cosa si tratta perché il punto della tesi era quello di leggere i musei della regione Puglia attraverso la forma dell'esposizione che aveva preso l'esposizione e per commentare evidentemente in modo critico la forma che la rappresentazione del contesto archeologico aveva preso all'interno di questi musei poi con il triangolo abbiamo i musei che nel 2008 risultavano chiusi ancora chiusi e poi una suddivisione per colori della classificazione del museo sotto il profilo giuridico quindi partendo dal museo civico per arrivare a quello statale passando per quello provinciale il museo ecclesiastico il museo privato abbiamo censito anche quelli che raccogliessero appunto fossero raccolte di materiale archeologico ecco questa è la classica immagine qui siamo nel museo civico e paleontologico a Ugento in provincia di Lecce con una visione di due diorami che sono stati allestiti abbastanza recentemente in occasione di una mostra sullo Zeus di Ugento e che evidentemente riproducono un contesto archeologico attraverso la forma del diorama ecco la forma del diorama è una classica forma strumento museale per raccogliere informazioni contestualizzarle e proporle al visitatore un diorama può essere fatto in vari modi in questo caso la forma grafica il supporto grafico è quella selezionata dallo specialista lo studio del museo parte dallo strumento di base cioè della scheda che ci parla e ci documenta in dettaglio la ricostruzione del progetto del piano museologico del museo come vedete abbiamo scusate sono un po' magari didattico su queste cose però non so se dal fondo riuscite a vedere bene tutte le le voci di questa scheda abbiamo la leggo la denominazione comune provincia indirizzo il sito web l'indirizzo email il profilo giuridico l'anno di istituzione ecco l'anno di istituzione è importante per capire quanti allestimenti ci sono stati se per caso siamo di fronte all'allestimento ancora originale e che quindi ci può essere utile come dato per capire il valore dell'allestimento per esempio ci sono alcuni musei civici mi pare anche qualcuno qui nella regione Puglia che sono molto antichi sono raccolte se non sbaglio sono molto antichi come allestimento e questo aspetto è piuttosto importante e interessante per capire le modalità di conservazione di restauro degli allestimenti originali perché da sempre io ho pensato nell'ambito di sviluppo della disciplina che il settore della museologia e museografia ha preso nel corso degli anni con l'insegnamento anche a quello della tutela degli allestimenti dal punto di vista della rappresentazione fisica materiale del pensiero che li ha concepiti in altre parole un allestimento storico ottocentesco è la rappresentazione visuale visiva del criterio di raccolta degli oggetti per cui se ho ancora sopravvissuto casualmente ne ho visti in qualche caso degli allestimenti soprattutto con le biblioteche un allestimento della fine del Settecento ebbene quegli allestimenti rappresentano le modalità di pensiero museologico e quindi la trasmissione materiale dei lineamenti del pensiero scientifico alle spalle dell'esposizione museale tipica del periodo per cui un allestimento della fine del Settecento si distingue da uno della metà dell'Ottocento come si distingue da un allestimento contemporaneo se lo voglio rinnovare renderlo più comunicativo lo posso fare però devo assumerne la responsabilità dopo aver effettuato una precisa documentazione dell'allestimento capite cosa voglio dire lo devo quindi documentare in tutti i suoi aspetti per non perderlo per non perdere una tappa importante della storia del pensiero scientifico intendo scientifico non solo dal punto di vista delle scienze esatte ma anche dal punto di vista delle scienze umanistiche che ha contribuito alla formazione di quella raccolta è chiaro scusate faccio questi incisi mi piacerebbe che poi fossero cancellati dalla dalla riproduzione della lezione nel senso che evidentemente sono miei considerazioni del tutto personali una volta ho parlato con un direttore di un museo scientifico italiano molto importante che mi diceva che mantenere un vecchio allestimento è come mantenersi un ritmo nel garage al posto di prendere una Ferrari è chiaro che ogni azione ha il suo prezzo e il suo costo nel senso che per un museo scientifico non comunicare con il pubblico e quindi non aggiornarsi per esempio sulle tecniche interattive che ci sono potenzialmente nel museo scientifico per attirare l'attenzione del pubblico dei visitatori è una penalizzazione molto forte però bisogna anche capire che è chiaro che se io riesco a condividere una piattaforma in cui si riconosce il valore scientifico del pensiero che c'è dietro all'esposizione museologica io posso scegliere anche di mantenere una sala per esempio una sala di un museo scientifico esposta con i criteri di raccolta ottocentesca degli oggetti e quindi se ho un museo per esempio zoologico potrò esporre la sala ornitologica con mille esemplari di gabbiano all'interno esattamente come espressione del pensiero positivista ottocentesco però le altre dieci sale del museo le posso rinnovare in senso interattivo e contemporaneo quindi è una scelta che il museologo fa in ogni caso questo è il punto finito l'inciso vi dicevo l'anno di istituzione quindi è importante per il nostro strumento per capire esattamente la linea di pensiero che c'è alle spalle laddove c'è da dove speriamo appunto ci sia della nostra esposizione museale in senso archeologico diventa perciò importante capire la tipologia delle raccolte cioè che tipo di materiale è conservato all'interno del museo qui abbiamo fatto una classificazione per grandi classi di materiali preistorico barra protostorico classico tardo antico medievale post medievale tipologia delle ricostruzioni è chiaro che con questa tesi dell'acqua viva mi interessava analizzare il fenomeno di come si riproponeva l'ambiente archeologico all'interno dei musei pugliesi e quindi abbiamo lavorato a classificare i diorami i plastici i calchi le stratigrafie archeologiche naturalmente le ambientazioni archeologiche intese come insieme di informazioni ricostruite attraverso l'ambiente che si non so l'ambiente di una casa l'ambiente di una capanna protostorica le ricostruzioni virtuali e gli strumenti interattivi per avere accesso a queste informazioni oppure abbiamo previsto anche la voce altro nel caso si trovassero forme diverse evidentemente di ricostruzione del contesto ambientale dell'ambito archeologico e poi il punto forse più delicato criteri di orientamento per esempio cronologico topografico tipologico tematico che vuol dire vuol dire che il lavoro di questi anni mi ha dato anche un'altra consapevolezza che il museologo crea degli aspetti e delle forme di allestimento che sono evidentemente derivate da che cosa dalla sua formazione in primis se io per esempio sono uno specialista della ceramica domestica etrusca è chiaro che avrò ben chiari gli aspetti della tipologia della ceramica domestica rispetto alle classi in cui è prodotta questa ceramica domestica e siccome lo studio archeologico ahimè ti insegna a classificare per tipi spesso gli oggetti che noi troviamo all'interno degli scavi archeologici i tipi della ceramica domestica etrusca i tipi delle anfore romane io sarò automaticamente portato ad esporre capito gli oggetti che trovo all'interno di uno scavo archeologico per tipi anziché per funzioni anziché per classi anziché per contesto capite quindi le scelte possono essere influenzate dalla mia visione del gruppo di materiali che devo esporre da questo punto di vista guardate che il discorso che sto facendo è trasmissibile assolutamente trasferibile assolutamente a tutte le altre discipline l'antropologo lavora con i mezzi di classificazione della realtà ed espone oggetti per esempio per contesti funzionali l'antropologo è molto più esposto secondo me alle buone influenze della ricostruzione dei contesti perché perché sa bene che gli oggetti fanno parte di un contesto di un luogo produttivo di un luogo abitativo che in ogni caso vede correlati l'uno all'altro d'accordo e quindi il criterio espositivo degli oggetti diventa anche una delle forme di analisi della realtà museologica che noi utilizziamo per capire la realtà museologica che ci sta di fronte e poi un altro dato importante che non si trova quasi mai in queste guide sui musei italiani la superficie totale di esposizione perché mi aiuta a capire attraverso le sale complessive per esempio quanta della superficie del museo è effettivamente dedicata a questa esposizione poi mi sono permesso di suggerire di cui visitabili o non visitabili ci sono delle sale spesso chiuse per mancanza di personale per mancanza di impianti aggiornati non so per esempio segnali predisposizione appunto impiantistica antincendio e via dicendo che spesso risultano chiuse al pubblico per cui questo quadro della scheda come vedete cerca di fotografare una realtà espositiva che in questo caso è al 100% però espositiva perché dopo vedremo altri strumenti che ho sviluppato per esempio per capire che cosa per capire i servizi che eroga un museo laddove ci interessa invece fare uno studio sulle attività condotte dal museo tutto chiaro? c'è qualche domanda? senza problemi mi aiutate a fermarmi un attimo allora vediamo il museo archeologico fondazione De Palo Ungaro di Bitonto in provincia di Bari come vedete compilata si tratta di un'azione di una serie di informazioni che attenzione possono essere fatte tranquillamente anche attraverso una scheda che si predispone per posta elettronica e si invia laddove esiste al direttore del museo o alla direttrice del museo d'accordo? è chiaro che per avere informazioni di carattere generale per avere informazioni di carattere più specifico io la povera laureanda in questo caso si è diretta ad esplorare quasi tutti li ha visti quasi tutti è chiaro che la qualità del lavoro di questa tesi di laurea è stata molto al di sopra della qualità della media delle tesi di laurea tanto è vero che sono riuscito a pubblicarla quasi subito sostanzialmente perché voi capite che vedere personalmente la qualità degli allestimenti e censire questi allestimenti in ogni caso ci crea un valore aggiunto rispetto per esempio a una difformità di visione non so un direttore può vedere il proprio allestimento in un modo il direttore del museo di un'altra provincia può vederlo in un altro capite è difficile raggiungere un'oggettività che poi ti dà un dato statistico come vedete non tutte le voci possono essere spesso utili in questo caso vi ho messo scusate proprio una scheda nel quale l'ambiente archeologico vedete c'è una tipologia delle raccolte c'è materiale preistorico protostorico materiale di età classica però non ci sono ricostruzioni dell'ambiente archeologico e si capisce naturalmente dallo zero o dalla X che compare sulla voce poi però abbiamo un'informazione importante sul assetto e quindi sul criterio espositivo che hanno queste sale che sono appunto il criterio cronologico e topografico insieme a quello tematico 5 sale per una superficie espositiva complessiva di 350 metri quadri e un museo civico che ha questo anno di istituzione attenzione io poi ho specificato nell'esperienza questa era una delle prime tesi che facevamo poi ho specificato tra l'anno di istituzione del museo e l'anno dell'ultimo allestimento e l'anno anche del primo allestimento qualora ci siano stati più allestimenti di cui magari è sopravvissuta traccia quindi come vedete il lavoro poi del ricercatore da questo punto di vista è sempre abbastanza complesso sostanzialmente è chiaro che la statistica non manca mai ma perché è importante la statistica perché poi alla fine dobbiamo ragionare complessivamente sullo sviluppo dei dati che abbiamo a disposizione per cui in questa vecchia suddivisione per province della regione Puglia noi abbiamo un calcolo numerico dei musei che abbiamo censito attraverso le province e non possiamo certo tirare fuori dei dati statistici da questi musei però insomma c'è radice lunga che insomma laddove ci sono degli stit questa era perlomeno le conclusioni a cui era arrivata l'acqua viva e a cui abbiamo poi fatto un pochettino di pressione poi nella pubblicazione che laddove c'è una ricerca archeologica nel caso dei musei archeologici naturalmente abbastanza spinta abbastanza sviluppata ecco poi l'attrasferimento delle informazioni della ricerca nel museo è quasi automatico è nella creazione del museo archeologico vicino al sito d'accordo per cui non a caso vedete dove tra le province di Bari di Foggia ci sono degli istituti dei dipartimenti delle università che si occupano a tempo pieno di e con profitto di ricerca archeologica evidentemente poi i musei vengono fuori i musei civici vengono fuori soprattutto appunto grazie a questo impegno è chiaro che questi dati poi vengono confrontati con che cosa i dati relativi come vedete agli anni di istituzione dei musei nella regione Puglia vedete che c'è una forte c'è un dato crescente una tendenza assolutamente crescente nel tempo dal 1820 1839 che è il periodo barra scusate questi sono evidentemente gli anni a cui risalgono i primi allestimenti censiti e come vedete si tratta di dati assolutamente sporadici insomma che abbiamo raccolto in modo singolo quasi direi abbiamo fino agli anni del dopoguerra sostanzialmente una linea costante che si impenna vedete esattamente all'inizio degli anni 70 non a caso in un periodo che poi vede l'istituzione delle regioni e l'istituzione poi successivamente delle deleghe dallo Stato alle regioni e la grande soprattutto nelle regioni del centro Italia e del sud Italia la grande stagione insomma della creazione dei musei civici come musei che avevano la missione appunto di trasferire informazioni in modo periferico al territorio di competenza con un definitivo insomma incremento tra gli anni e quindi una stabilizzazione del dato tra gli anni 90 e gli anni 2000 della poi i dati statistici su questi musei dal punto di vista dell'ordinamento giuridico come vedete la grande maggioranza di questi musei è di tipo civico in blu quindi profilo giuridico comunale espressione degli enti territoriali quali sono i comuni ce ne sono qualcuno provinciale diversi statali qualcuno privato fondazioni quindi con un aspetto anche questo privato e abbiamo censito anche i musei che avessero collezioni archeologiche di ordinamento giuridico ecclesiastico e come vedete ecco la cronologia degli allestimenti è un dato un po' più complesso perché qualcuno sopravvive fino agli anni del dopoguerra ancora negli originali allestimenti con il confronto tra gli ultimi allestimenti in giallo e lo stesso dato di lo stesso anno di istituzione come vedete in qualche caso vi dicevo soprattutto al dopoguerra è possibile conferire importanza proprio all'allestimento che ancora leggiamo come originale rispetto all'anno di istituzione questo era un dato piuttosto interessante e poi vediamo le ricostruzioni è chiaro che le ricostruzioni partono le ricostruzioni dell'ambiente archeologico vanno di pari passo con l'evoluzione del pensiero archeologico il pensiero archeologico cosiddetto dello sviluppo dei contesti non può che essere un prodotto per chi di voi è archeologo ovviamente per chi non è archeologo mi dispiace non essere così chiaro come mi piacerebbe dell'archeologia di tipo processuale che è una corrente dell'archeologia che è venuta fuori nel mondo anglosassone in particolare nata negli Stati Uniti negli anni Sessante che ha considerato sempre di più i contesti di azione e di ricostruzione del lavoro dell'archeologo attraverso gli aspetti diciamo più tipicamente dell'analisi dello spazio all'interno del quale certi processi erano sviluppati e quindi non so lo studio della disposizione degli oggetti all'interno di una casa lo studio della disposizione delle case all'interno di un quartiere lo studio dei quartieri all'interno di una città e via dicendo per riuscire poi a recuperare che cosa delle regole dei modelli di sviluppo evidentemente delle comunità rispetto all'assetto archeologico dei ritrovamenti che l'archeologo faceva sul terreno che cosa vuol dire questo vuol dire che l'aspetto estetico l'aspetto della storia dell'arte era relativo non so all'analisi estetica all'analisi dei valori di una statua o di un dipinto o via dicendo erano evidentemente considerati in modo diverso rispetto alle potenzialità che potevano esprimere i contesti di scavo nella ricostruzione dell'ambiente archeologico è chiaro che una ricostruzione di contesto a mio parere si all'interno di un museo oggi si stringe e si avvicina e si correla strettamente a questa interpretazione del contesto archeologico in modo evidentemente vicino all'archeologia processuale va bene l'archeologia processuale poi ha avuto un proseguimento che è l'archeologia una reazione alla costruzione di modelli sul fenomeno delle comunità antiche sulla loro produzione che è la cosiddetta archeologia post-processuale che per esempio ha studiato certi fenomeni che non venivano non emergevano nell'archeologia processuale faccio un esempio il simbolismo per esempio degli oggetti contenuti all'interno delle tombe ecco il simbolismo è uno degli aspetti che io analizzo abbastanza bene quando devo studiare i rituali funerari e li devo riproporre all'interno delle ricostruzioni per esempio mi è capitato di ricostruire una vetrina a forma di tomba etrusca dove ho specificato gli aspetti del simbolismo relativo non so alle immagini dei vasi quindi delle pitture vascolari dei vasi contenuti all'interno della tomba che avevano riferimento con la vita ultraterrena del defunto ecco questo è un classico aspetto dell'analisi del simbolismo che può essere valorizzato all'interno di un contesto museologico e che poi viene tradotto in termini museografici evidentemente con uno zoom su quell'immagine del vaso che nel pannello o nel video che accompagna l'esposizione io posso poi trasferire costruzione di pensiero museologico derivato perfettamente dall'applicazione di una linea teorica post processuale al museo va bene all'allestimento museografico vedete come la correlazione è importante della progettazione museologica perché perché senza il piano museologico il piano museografico non dovrebbe esistere e questo non lo dico per deprimere il lavoro degli architetti o degli ingegneri lo dico per valorizzare il senso del lavoro umanistico capite che noi umanisti non riusciamo mai a far capire in maniera sufficiente capite l'importanza del nostro lavoro questo è il punto allora vi dicevo queste ricostruzioni è chiaro che risentono risentono evidentemente dagli anni 70 in poi ma come vedete sono concentrate soprattutto tra gli anni 90 e gli anni 2000 e vanno evidentemente di pari passo con le evoluzioni poi che la tecnica i supporti su cui costruire queste ricostruzioni hanno offerto è chiaro che lo sviluppo delle tecniche digitali ha creato dei supporti per esempio tridimensionali digitali importanti per sviluppare queste ricostruzioni ma pensate negli anni 50 se non sbaglio il museo di canne della battaglia presentava la ricostruzione degli schieramenti se non sbaglio se non ricordo male la scheda degli eserciti al tempo della battaglia e poi presentava delle ricostruzioni dei sepolcreti dei soldati rinvenuti se non ricordo male correggetemi se sbaglio ecco è chiaro che poi alla fine il dato statistico acquista una sua dimensione evidentemente di confronto tra la presenza insomma di questi ma questi sono dati che se volete sono squisitamente statistici e trovano senso questi non sono stati pubblicati naturalmente però trovano senso dal punto di vista della della evidentemente della qualità del lavoro che è stato condotto di analisi diverso il caso dei parchi archeologici della regione Puglia la tesi di Maria Chiara Giordano discussa lo scorso anno all'università di Siena era appunto diretta al capire la realtà dei parchi archeologici in Puglia poi vi parlerò del problema dei parchi archeologici e della progettazione dello stato dei parchi archeologici con particolare riferimento al sistema dei parchi della Val di Cornia questo tema questo aspetto tematico è stato censito come vedete suddiviso per province correggetemi se sbaglio ma qui c'è la provincia di Bat ecco e naturalmente come distribuzione dal punto di vista spaziale delle forme di valorizzazione ecco questo dei parchi archeologici è un tema che affrontiamo tra poco ma che in qualche caso per esempio ha richiesto una forma di censimento leggermente diversa perché mi interessava soprattutto la correlazione in questo caso sia la natura del parco quindi che cosa significasse il parco dal punto di vista della progettazione ma anche soprattutto dal punto di vista della gestione cioè chi fosse il gestore del parco quale tipo di servizi erogasse il settore del parco vedete come scusate il tipo di parco che stavamo indagando vedete come anche in questo caso la banca dati è fondamentale perché permette la creazione dell'osservatorio dal punto di vista regionale da questo punto di vista che cosa vuol dire questo vuol dire che la scheda qui siamo se non sbaglio in provincia di Brindisi parco archeologico di Muro Tenente nel comune di Mesagne le voci sono leggermente diverse da quelle specifiche degli allestimenti ci siamo perché evidentemente il target di informazioni a cui tendiamo è leggermente diverso indirizzo telefono fax e mail sito web ecco il sito web oggi per un parco archeologico ma anche per un museo evidentemente è un importante approccio remoto alla realtà per cui è chiaro che un museo che ha un parco che hanno un sito meglio se all'interno di un portale per esempio della provincia più che della regione evidentemente hanno la possibilità di costruire ed esprimere un valore aggiunto d'accordo? Il profilo giuridico del parco su cui evidentemente si può aprire una discussione e un'analisi l'estensione 31 ettari la gestione comuni scusate di Mesagne e Latiano l'anno di istituzione recentissimo il 2010 le leggi alla base dell'istituzione del parco i programmi anche vedete il programma Port Puglia 2000-2006 misura 2.1 la tipologia delle evidenze e quindi scusate dal piano di finanziamento si capisce anche l'azione che c'è dietro l'istituzione del parco va bene nel senso che si tratta di parchi comunali evidentemente attraverso che gestiti dal comune attraverso e costruiti dal comune pensati dal comune attraverso evidentemente la ricezione di fondi per lo più di provenienza europea la tipologia delle evidenze pre-protostoriche classiche esiste un centro visita? no esiste un museo contiguo al parco o interno al parco? no ci sono altri locali che vengono usati per funzioni esplicate dal parco? sì servizi di visite guidate? sì attività didattiche? sì archeologia sperimentale? sì campi scuola? sì attività produzionale? sì bookshop? no percorso strutturato? sì pannelli illustrativi? sì ricostruzioni barra plastici? sì riproduzioni fotografiche? no postazioni multimediali? no illuminazione notturna? sì servizi igienici? sì si presuppone che ci siano naturalmente ma non è detto che ci siano ovunque servizi aree aree ristoro? no accessibilità disabili? sì segnaletica? sì altre strutture parcheggio modalità ingresso gratuito punti di interesse naturalistico? no adesso vedremo perché sono importanti i punti di interesse naturalistico e il dato che dove riesco a ottenere sono molto contento di averlo perché mi fa capire il funzionamento reale effettivo del parco l'affluenza media annua dei visitatori attenzione non possiamo tediare importunare il direttore del parco il gestore del parco con per favore me le distribuisci queste presenze nell'arco dei 12 mesi perché sarebbe il caso come vedremo dopo di costruire altri strumenti e cioè quali strumenti? di agganciarci evidentemente di agganciarci evidentemente alla fruizione turistica del parco e all'inserimento del parco nell'ambito degli itinerari della provincia di Brindisi e del turismo della provincia di Brindisi di cui questo dei 7.000 visitatori del parco di Morotenente è evidentemente oggi un segmento capite dove voglio arrivare? cioè è chiaro che mi piacerebbe capire quanti di questi 7.000 visitatori sono per esempio composti da un target scolastico di scuole quanti invece provengono da un turismo di lunga distanza quanti vengono invece da un turismo di breve distanza e via dicendo però è chiaro che si possono sviluppare poi dati di questo genere attraverso banche dati che voi realizzate attraverso questi strumenti un altro lavoro scusate non vorrei ecco un altro inciso che vorrei fosse cancellato dalla lezione videoregistrata non vorrei che voi mi giudicaste un grande conoscitore della regione Puglia perché poi io conosco molto bene la città di Taranto ed intorno ai poligoni militari intorno alla città di Taranto il resto della Puglia purtroppo la conosco molto poco e vorrei che capiste il fatto che l'importanza di questi lavori sta esattamente nella capacità che poi ha un docente di far maturare il proprio studente in questo senso nella capacità poi di dargli strumenti utili a che cosa? a riflettere successivamente nel settore dell'occupazione e dell'importanza che hanno questi aspetti della promozione e soprattutto della diffusione del bene culturale così capillare nel territorio italiano dal punto di vista della produzione poi dell'occupazione e del lavoro e della progettazione per cui i lavori che vedete così bene organizzati e così ben strutturati in realtà è tutto merito dell'impegno che hanno messo questi studenti che non mi stancherò mai di spingere perché poi pubblichino il loro lavoro se no rimane all'interno di un osservatorio che dovrebbe essere messo in rete e che dovrebbe essere poi condiviso da altri studiosi, da altre entità di analisi dei dati che magari possano in qualche modo recepire questi dati e perché no anche dai decisori a livello politico e soprattutto dagli amministratori delle nostre province che indaghiamo e delle regioni su cui stiamo lavorando Sì, volentieri ecco Sì, sì, va benissimo, scusate Se avete delle domande scusate Sono a disposizione Sì, va benissimo, scusate Sì, va benissimo, scusate Sì, va benissimo Sì, va benissimo